difficilmente mi capiterà mai di fare un dibattito con michela murgi allora vorrei cogliere l'occasione di un video che lei ha realizzato per presentare una sua iniziativa con la repubblica ossia l'osservatorio sul femminicidio per provare a simulare un confronto tra me e lei vediamo cosa ne esce la storia della parola femminicidio che molti di voi ricorderanno è una parola che solo dieci anni fa in italia non pronunciava nessuno al di fuori degli ambiti di attivismo contro la violenza alle donne e mi ricordo cosa dicevano non serve l'omicidio comprende tutto questa era la risposta che andava per la maggiore quando si cercava di far capire che le donne uccise dentro a dinamiche tossiche di relazione erano un fenomeno che non aveva niente a che fare con quelle che invece morivano per criminalità comune ok murgi allora prendiamo nota lei sta dicendo che i femminicidi non hanno niente a che fare l'ha sottolineato fortemente con gli omicidi di criminalità comune quindi in qualche modo stiamo parlando di omicidi un po speciali che si distinguono appunto da quelli della criminalità comune teniamo la memoria perché dopo ci verrà particolarmente utile per il momento però sarebbe importante capire come mai se sono appunto distinti dagli altri tipi di omicidi di altri tipi di criminalità come mai le varie associazioni i vari siti i feministi compreso il suo osservatorio su repubblica incorporano negli elenchi dei femminicidi tutto anche gli omicidi generici gli omicidi di criminalità comune addirittura gli omicidi commessi da donne contro donne cioè si annuncia un conteggio dei femminicidi però poi alla fine dentro ci viene infilato tutto come mai forse per ingannare in un certo senso per gonfiare le cifre è una cosa che lei dovrebbe forse spiegare anche perché mentre queste ultime diminuivano di anno in anno le donne che invece venivano uccise per possessività rimanevano uguali numericamente stabili la diminuzione è stata minima in questi anni sì questo effettivamente è vero se si sta della definizione di femminicidio data dalla polizia di stato e dai carabinieri il femminicidio è l'uccisione di una donna da parte di un uomo perché donna come atto estremo di prevaricazione affermazione ultima di superiorità aberrazione del possesso non includendo perciò omicidi maturati in altri contesti con altri moventi in effetti il numero dei femminicidi è rimasto costante per esempio nel 18 sono stati conteggiati come femminicidi propriamente detti così li ha chiamati la polizia 32 40 43 nel 2019 e 44 nel 2020 quindi effettivamente una cifra costante va detto che non sono cifre così spaventose così importanti la ragione della resistenza che avevano sia forze politiche che mezzi di informazione ma anche cittadini comuni a usare la parola femminicidio era comprensibile perché accettare di nominare diversamente il fenomeno significava doversene occupare sia con leggi che con linguaggi specifici che andassero alla radice culturale del problema che quindi veniva riconosciuto come tale c'è voluto quasi un decennio di donne morte per mano di uomini mariti compagni ex mariti padri fratelli fidanzati lasciati oppure mai voluti aspetta un attimo rivediamo un attimo l'elenco che lei ha appena fatto vediamo nel dettaglio lei parla di uomini mariti compagni ex mariti poi ci aggiunge padri fratelli fidanzati lasciati fidanzati mai voluti e dice questo elenco con grande rapidità perché astuta lo fa cercando di dare l'impressione di fare un elenco molto impressionante di possibili autori di femminicidio in realtà va così veloce per evitare che si notino le incongruenze per esempio il primo termine che dice è uomini e dire così è una vigliaccata perché si cerca di far passare l'idea che qualunque delitto qualunque omicidio commesso da un uomo e con vittima donna è un femminicidio peccato che così si vengono a includere anche gli omicidi di reati comuni provenienti da reati comuni che sono quelli che prima però aveva escluso quindi già incominciamo con le incongruenze e oltre a questo inganno dove però noi non caschiamo trapela da questo suo modo il grande obiettivo del femminismo che quello di trasformare i reati di ogni uomo contro ogni donna una specie di reato a sé una specie di fatti specie specificano quindi un reato dedicato solo alle donne peccato che non sia possibile perché il femminicidio oltre ad avere decine di come dire di definizioni contraddittori una una con l'altra alla fine alla fine non si capisce bene che cosa sia cos'è un femminicidio è qualunque omicidio commesso da un uomo contro una donna oppure dipende dalla relazione che quell'uomo ha con la donna nel quel caso i fratelli e i padri sono da escludere oppure come dice qualcuno come dicono alcune convenzioni dipende dal movente quindi è femminicidio quando una donna viene uccisa in quanto donna d'accordo però in quel caso anche lì vengono comprese diverse fatti specie per esempio una donna che uccide una donna pensiamo appunto una donna che uccide la moglie del proprio amante la uccide esattamente in quanto donna quindi quello sarebbe un femminicidio ma sicuramente così non verrebbe considerato insomma che sono tutte vere queste queste definizioni e non la è nessuna un po è l'autore un po il movente tutto si sovrappone diciamo che diventa una definizione multistrato che lei e quelle come lei riescono a manipolare furbescamente per distorcere la realtà per descriverne una fittizia che si adatte al vostro interesse che è l'interesse di creare un grande allarme sociale su un fenomeno che in realtà c'è ovviamente grave ma è minimale per rendersi conto che la questione richiedeva un approccio mirato purtroppo su quale debba essere questo approccio ancora non c'è accordo è difficile mettersi d'accordo su una cosa che in realtà non esiste che è soltanto un artificio retorico utile per ottenere maggiore visibilità maggiore potere maggiore denaro e nient'altro pensi che pure la presidente della commissione parlamentare l'inchiesta sul femminicidio non ha idea di che cosa sia il femminicidio veda un po il problema è che per definire il numero di questi orfani dovremmo definire il numero di questi casi e sono questi casi che noi non riusciamo a definire ancora non riusciamo in qualche modo a rilevare con puntualità e scientificità negli anni ha prevalso quello securitario con leggi apposite tipo il codice rosso che intervengono però soltanto quando la violenza si è già manifestata o in forma fisica oppure persecutoria con lo stalking ecco se fermassimo per un attimo qua il ragionamento in pratica quello che dice la murgia che la legge dovrebbe avere una specie di potere predittivo dovrebbe essere una specie di paragnosta cioè dovrebbe essere in grado di prevedere quando una violenza sta per essere perpetrata diciamo una specie di minority report diciamo ed è una riflessione che a pensarci bene fa pezzi lo stato di diritto che in realtà fa quello che può interviene e può intervenire soltanto quando la notizia di un reato non può prevederlo e presa di per sé questa detta dalla murgia sembra una grande sciocchezza in realtà lo è ovviamente però non è detta caso la murgia una astuta dice queste cose per preparare il terreno ad alcuni concetti a un vero e proprio atto di fede che chiederà ai suoi ascoltatori tra poco quindi queste queste sciocchezze vengono dette per preparare il terreno a un passo successivo che arriva fra poco però al centro di questa visione c'è sempre l'uomo cioè o l'omicida o lo stalker è certo al centro c'è sempre l'uomo praticamente di donne che commettono omicidio che commettono stalking non esistono questo è un po il principio che si vuole fare passare che un principio ovviamente che non è che non è veritiero lo dico nei dati semplicemente noi nel nostro piccolo abbiamo misurato nel 2020 un anno di lockdown quindi dove eravamo sostanzialmente tutti chiusi in casa e abbiamo contato 311 casi di violenze di donne sugli uomini solo tra quelle conteggiate e uscite sui media quindi è la punta dell'iceberg non sappiamo quante altre ce ne sono state sono state denunciate non sono finite sui media e c'è di tutto dentro abbiamo lo stalking le lesioni gli omicidi tentato omicidio persino lo stupro e per quest'anno adesso mentre stiamo girando questo video e dall'inizio del 2021 siamo già a 47 casi quasi uno al giorno quindi il fatto che sia soltanto un fatto maschile che soltanto gli uomini commettano quei reati è una sua fantasia è la sua solita criminalizzazione unilaterale verso la sfera maschile ed è priva di fondamento quindi quando lo stato se ne occupa significa che la donna è già diventata una vittima sono poche o pochissime le azioni messe in atto per disinnescare le ragioni di questi femminicidi cioè la cultura maschilista e patercale che porta gli uomini a considerare le donne una loro proprietà e le donne a scambiare questa cosa per amore il regime patriarcale di cui lei parla morgia non esiste altrimenti non si spiegherebbe perché questo sistema riservirebbe a noi uomini i suoi figli prediletti i lavori più pericolosi ci farebbe morire mandandoci in guerra perché dovrebbe sfavorirci sistematicamente durante le separazioni togliendoci tutto e togliendoci la possibilità di vedere dei figli perché ci metterebbe in condizione di essere le persone che si suicidano di più sono maschi la maggior parte dei suicidi e sono uomini la maggior parte dei senza tetto i clochard sono praticamente tutti uomini insomma bel sistema privilegiato del piffero che questo patriarcato se noi ci riduciamo a vivere questo tipo di disagi è evidente che questa cosa del patriarcato che lei ripete insieme a tante altre è una falsità è un concetto puramente ideologico che lei usa ovviamente in modo molto furbo sempre per mettere un tassello e arrivare al punto a cui sta per arrivare ma è una cosa che ovviamente è storicamente infondata e nella realtà non sta in piedi bisogna agire sull'educazione dei bambini e delle bambine che sarebbe la sola politica realmente rivoluzionaria però se lo fai entri in conflitto più o meno aperto con il modello socioculturale di moltissime famiglie italiane che ancora sono costruite intorno all'attribuzione di ruoli patriarcali di genere che poi sono quelli che sono alla base della discriminazione che poi sfocia in violenza dunque ricapitolando un attimo lei murgia sta esprimendo l'auspicio che il femminismo i fautori delle relazioni alternative chiamiamole così arrivino presto a entrare nelle scuole a mettere le loro manacce sui cervelli dei bambini per instillargli un bel senso di colpa fin da piccoli da portarsi dietro senso di colpa inestinguibile da portarsi dietro per sempre e sul cervello delle bambine per instillargli l'idea di aver subito delle dei soprusi delle oppressioni da sempre quindi adesso di essere in pieno diritto di esigere qualunque tipo di risarcimento in qualunque momento e questa lei la chiama una cosa rivoluzionaria e qui importante dice che questa cosa rivoluzionaria non si riesce a fare per colpa delle famiglie ci sono due ragioni in realtà la prima appunto colpa delle famiglie che continuano a voler stare attaccati a questo questo principio per cui occorre stare insieme uniti amarsi cercare di come dire allearsi di trascorrere la propria vita insieme dandosi forza crescendo i figli queste maledette famiglie che sono attaccati a questi valori tradizionali no così tradizionali in senso negativo e non vogliono seguire questi nuovi valori per cui è meglio stare soli passare la vita a lavorare a fare carriera a fare soldi spendere e poi morire magari in solitudine circondati dai gatti e in totale appunto abbandono da parte di tutti queste maledette famiglie invece insistono a voler restare uniti e a voler continuare a ad affermare i loro stramaledetti valori quelli che lei proprio non vanno bene morgia ma la cosa peggiore che emerge da quello che lei dice è che sostanzialmente non piegandosi ai piani sociali ai progetti sociali aberranti che lei afferma lei dice le famiglie italiane in qualche modo perpetuano le condizioni che facilitano il femminicidio cioè lei sostanzialmente sta dicendo che i femminicidi sono colpa delle famiglie italiane ed è una cosa allucinante e anche questo ovviamente non lo dice per caso allora occuparsi della violenza e non della discriminazione significa occuparsi della conseguenza e non della causa e arrivare sempre troppo tardi non a caso nei luoghi in cui davvero si lotta contro la violenza delle donne il termine femminicidio non definisce solo la morte ma definisce il processo di mortificazione delle donne ed ecco che siamo qui al salto logico così tanto lungamente preparato finalmente arriva qui la morsa ci chiede un atto di fede dunque sostanzialmente il femminicidio non è uno scopriamo che non è un fatto che si può descrivere con le sue caratteristiche precise ma è un processo è un processo che deriva da un contesto interamente completamente sbagliato proviamo a ricapitolare un attimo 1 il sistema è difettato perché non riesce a prevedere come un paragnosta i reati che vengono commessi gli omicidi che vengono commessi nei confronti delle donne primo secondo i colpevoli di violenza e di omicidio sono sempre e solo gli uomini terzo esiste e è vigente un sistema patriarcale maschilista quarto questo regime è perpetuato e favorito dalla sussistenza della famiglia dal fatto che ci sono le famiglie a me pare che suoni così descritto in questo modo un po come la congiura dell'internazionale ebraica di cui parlava hitler ai suoi tempi mi pare la stessa cosa anche per questo io chiamo il femminismo una specie di teoria complottista che ce l'ha fatta almeno finché dura però il parallelismo c'è tutto la morte infatti possibile solo dove è già stata possibile la mortificazione civile cioè tutte quelle negazioni di dignità fisica psichica morale che sono rivolte sia alle singole donne in quanto tali sia a tutte le donne nella loro appartenenza di genere ecco ma questo secondo lei sono tutte cose a cui gli uomini sono totalmente immuni riguardano solo le donne cioè secondo lei non esiste morte civile per un uomo che so un uomo separato che non vede più i suoi figli li vede due volte al mese o che è costritto a lasciare la casa di proprietà o lasciare parte del proprio stipendio per darlo all'ex consorte che viene ridotto sostanzialmente a un bancomat con le gambe quella non è morte civile assolutamente o l'uomo che si vede condannato a una pena più grave a parità di reato rispetto a una donna quella non è morte civile forse o ancora l'uomo che passa sette otto nove anche a volte anche dieci anni in tribunale per difendersi da una falsa accusa sono frequentissime e passa dieci anni di calvario per difendersi da un'accusa assolutamente infondata quella assolutamente non è morte civile o che ne so l'operaio c'è stata una notizia qualche giorno fa un 72enne che lavorava ancora 72 anni sui lucernai un lucernaio è ceduto e lui è morto e oppure in fondo alle cisterne quella non è morte civile forse o pensiamo più giovane a un ventenne che prova a corteggiare una propria coetanea magari lo fa in modo un po esistente in un secondo si ritrova denunciato per stalking quella non è una morte sociale qualcosa che riguarda solo le donne no murgia gli uomini no gli uomini sono nel patriarcato quindi se la spassano vero ma cosa sta dicendo allora vi sembrerà eccessivo ma in quest'ottica è definibile femminicidio anche la morte professionale cioè per esempio la negazione della parità di salario della prospettiva di crescita la parità di salario murgia è una legge dello stato si chiama contratto collettivo nazionale di lavoro lei sta mentendo come al solito e femminicidio anche l'assenza di prospettive di genere nella medicina che fa sì che muoiano più donne per mancanza di protocolli mirati al loro corpo o che portano sottovalutare nei pronto soccorso il loro dolore sì fantastico qui siamo alla medicina di genere cioè secondo questo concetto anche la medicina la farmacologia sono patriarcali e maschilisti non si spiega perché però nonostante siano appunto patriarcali e maschilisti le donne vivono tra gli otto e dieci anni più degli uomini bizzarro strana questa medicina maschilista e vogliamo parlare dei pronto soccorso che anche loro sono materiali patriarcali maschilisti e tossici e quant'altro strano perché in tutti i pronto soccorso d'italia esiste il codice rosa dedicato solo alle donne non esiste un codice azzurro lei murgia è meravigliosa o che non fanno informazioni sui loro sintomi specifici è femminicidio anche la quantità di rinunce lavorative legate alla gravidanza o alla nascita dei figli attenzione bene perché qui adesso andiamo proprio più a fondo andiamo proprio a toccare il fondo andando alla ricerca delle ragioni di sistema del femminicidio la murgia dopo aver colpevolizzato le famiglie italiane qui sta dicendo qualcosa che va oltre ogni limite della logica ovviamente e della decenza c'è quello che ha appena detto la murgia e che appunto oltre alle famiglie a facilitare a favorire il femminicidio sono tutte quelle donne che decidono di fare una vita dedicata alla casa ai figli a una una vita domestica quindi loro favorirebbero il femminicidio sostanzialmente le casalinghe le donne che restano a casa e si occupano dei figli sono una causa di femminicidio rendiamoci conto e femminicida quindi uno stato che non cerca di rimuovere questi ostacoli al dalla piena realizzazione delle donne ed è quello che stabilirebbe la la costituzione è certo anche lo stato e femminicida naturalmente ma poi abbiamo la bugia colossale quella secondo cui la costituzione garantirebbe i diritti di realizzazione delle donne è una bugia colossale totale la costituzione stabilisce la assoluta uguaglianza tra uomini e donne dedica alcune alcune parti speciali alla donna per quanto riguarda la maternità le lavoratrici e i diritti attivi e passivi dal punto di vista elettorale punto per il resto la costituzione non si occupa affatto della realizzazione delle persone in generale delle donne tantomeno quella ognuno se la deve raggiungere per sé con i propri sforzi personali vi piacerebbe che la costituzione tutelasse solo il vostro diritto alla realizzazione anche questo sarebbe un grande sogno invece no invece la costituzione è assolutamente paritaria e ugualitaria infatti non è femminista come lei ma magari ti fa la campagna di colpevolizzazione sulla pelle che di quelle che invece di fronte a questi ostacoli scelgono di non fare figli oppure di farli più tardi possibile quando si hanno raggiunto una stabilità lavorativa no ma davvero sinceramente dove ha mai sentito dove ha mai visto qualche donna colpevolizzata perché ha fatto una scelta di carriera o di fare fili in età avanzate forse può capitare in qualche villaggio sperduto nella gallura o in qualche introterra chissà dove in italia ma oggi normalmente nessuno criticherebbe una donna per delle scelte del genere quelle scelte sono completamente normalizzate quello che lei sta proponendo Murgia è una sua fantasia una sua teorizzazione un matrix un suo matrix personale che io chiamerei più che altro uno psichiatrics ecco è femminicida anche il giudizio estetico o morale sui corpi e sulle scelte delle donne perché condiziona la qualità della vita di tutte noi ma soprattutto di quelle che tra noi sono più giovani e fragili no ma lei davvero Murgia pensa in tutta sincerità che le cose che ha elencato quindi il discorso dell'aspetto esteriore delle scelte di vita o della fragilità siano cose che siano del tutto estranei agli uomini riguardano solo le donne cioè pensa davvero che ne so il disprezzo l'apprezzamento dell'aspetto fisico sia qualcosa che lascia indifferente gli uomini ha mai parlato con un uomo che patisce per la propria calvizia o per una statura più bassa della media ma perché nega umanità e empatia agli uomini ma come si permette come osa fare una cosa del genere e poi vogliamo parlare delle pressioni ognuna le sue donne e uomini hanno le loro pressioni parliamo degli uomini a questo punto quante pressioni ricevono per avere una vita di successo ricca possibilmente agiata quindi avere una posizione sociale molto affermata sono e quando non si riesce a ottenere questo tipo di collocamenti che poi scattano molte reazioni anche estreme gran parte dei suicidi hanno natura economica sono gran parte maschili hanno natura economica persone che non ce l'hanno fatta raggiungere quel livello richiesto dalla società certo lei dirà che questo anche questo è colpa del patriarcato ma anche gli uomini sono vittimi del patriarcato l'abbiamo detto prima abbiamo creato un sistema tutto per noi che però ci massacra ma al di là di questo in realtà lei chiama patriarcato usa il nome patriarcato per indicare un sistema che in realtà non ha nulla a che fare con i generi è semplicemente un sistema che è globalmente gerarchizzato e competitivo e così in natura e noi esseri umani ci adeguiamo può piacere può non piacere ma così funziona e funzionerebbe così in ogni caso che il mondo fosse popolato solo da uomini o solo da nonne ci fossero solo donne competerebbero e come dire si posizionerebbero in modo gerarchico esattamente come sono adesso e questo per dire che i turbamenti le pressioni sociali e tutte queste questi aspetti che lei cerca di riservare solo per le donne in realtà sono comuni a tutti lei li spaccia come esclusivi ma è solo uno sforzo penoso per cercare per l'ennesima volta di vittimizzare tutte le donne e di colpevolizzare tutti gli uomini alla solita strategia il femminicidio in poche parole più che una morte è un processo di negazione e di controllo cioè ti ammazzo è una frase è la sua conclusione ed è una frase che diventa più di una minaccia solamente quando tutte le altre azioni sono già state agite e siamo sempre al solito concetto lei sta profilando un mondo esclusivamente organizzato per fare a pezzi opprimere le donne e lo dice sapendo che ci sono milioni di prove storiche antropologiche culturali che la smentiscono lo dice sapendo che in realtà da secoli da sempre uomini e donne cercano di cooperare come possono ovviamente con delle situazioni che non funzionano ma nella gran parte dei casi funzionano per cercare di ottenere migliori condizioni di vita o per mantenere quelle che si hanno di fatto questo tipo di collaborazione pur nella loro imperfezione è quella che ci ha portato fino a qua e quella che ha portato all'evoluzione umana e non c'è mai stato una fin dall'era preistorica una una spectre di maschi che si sono riuniti per decidere deliberatamente e appunto che soltanto le donne andavano oppresse e che gli uomini dovevano avere tutti i vantaggi a discapito delle donne questo è di nuovo quello che dicevo prima il suo matrix il suo psichiatrix che rende i suoi interventi in questa fase una specie di macchietta cioè è una chiave di lettura che forse può agganciare qualche adolescente confuso qualche donna di mezza età insoddisfatta delle proprie scelte risolta ma in realtà tutti capisco la maggioranza soprattutto delle donne sa che quello che lei propone questa chiave di lettura è una follia senza fondamento e io è bene che l'avvisi che le persone sono consapevoli che lei sta dicendo un mucchio di sciocchezze senza fondamento è importante che lei ne sia consapevole ma sono certo che ne è consapevole ecco per quale motivo la nascita di un osservatorio dentro un organo di informazione è un passo importante nella presa di carico del femminicidio come fenomeno culturale ed ecco che qui scatta il secondo salto logico quello più importante se vi ricordate prima l'amore già definito il femminicidio un processo adesso fa un salto e lo va a definire come un fenomeno culturale e qui svela praticamente il piano ideologico suo e di quelle come lei sostanzialmente funziona così si prendono pochi fatti tragici sicuramente ma comunque pochi non emergenziali si cerca di gonfiarli il più possibile anche attraverso delle definizioni non del tutto chiare molto ambigue molto sovrapposte e si cerca di spiegarne la causa riportandole uno schema generale dove tutto l'universo tutto il mondo è costruito contro le donne per mano degli uomini questa è la chiave di lettura quindi quei 40 circa omicidi all'anno di media negli ultimi anni diventano la prova provata che le donne siano oggetto di una persecuzione globale per la quale hanno essendo delle perseguitate diritto a un risarcimento costante fatto di vantaggi, corsie preferenziali, quote rosa, più potere, più denaro queste due cose però non date direttamente alle donne di solito sono le organizzazioni femministe che cercano di tenersi il potere e il denaro in nome e per conto delle donne tutta roba che nel concetto è da togliere proprio in termini di risarcimento agli uomini perché colpevoli di questo stato repressivo questo è il messaggio nascosto nel discorsetto astuto della Murgia che raccoglie in sé alcuni punti chiari vendetta, rivalsa, risarcimento, eliminazione degli uomini, livore in una parola è zizzania, discordia, guerra di genere, guerra tra uomini e donne e c'è ancora di fronte a queste evidenze chi blatera che il femminismo sia qualcosa che si batte per la parità alla faccia quindi da oggi potete seguire su Repubblica nel link che vi lascio in swipe up tutto il lavoro che stiamo facendo per cercare di restituire ai lettori e alle lettrici un quadro il più possibile completo del fenomeno femminicidio in Italia affinché non se ne parli solo il 25 di novembre o l'8 marzo ma ci si ricordi che si tratta di una cultura, di un fenomeno che uccide più o meno una donna ogni tre giorni nel nostro paese e che rende vittime di violenza una donna ogni 15 minuti ed eccole finalmente le statistiche le stavamo aspettando con ansia non potevano mancare allora si dice a Murza che lei sia bravina a scrivere sicuramente è una maestra in propaganda sulla matematica forse dovrebbe ricominciare quanto meno dalle elementari l'abbiamo detto prima tra il 2018 e il 2020 secondo i dati della Polizia dello Stato quindi dati ufficiali c'è stata una media di all'incirca 40 donne uccise 40 femminicidi propriamente detti all'anno basta una semplice divisione, prenderle e dividerle per i 365 giorni all'anno e non viene una donna quasi uccisa ogni tre giorni ma viene una uccisa ogni nove giorni posto che questo modo di esprimere le statistiche è assolutamente stupido non dice niente è solo una suddivisione all'interno dell'anno occorrerebbe andare a vedere il tasso omicidiario che c'è in Italia e allora si vedrebbe che il tasso omicidario italiano è bassissimo in generale e per le donne ancora di più siamo credo i terzultimi in Europa per tasso omicidiario siamo uno dei paesi più sicuri d'Europa per tutti, ripeto ma soprattutto per le donne cioè è più probabile che una donna in Italia muoia per un incidente domestico che non uccisa per femminicidio quindi o per mano del partner o in quanto donna o in uno dei tanti motivi che vengono adotti rispetto al femminicidio ed è così che si valutano poi le statistiche murgia non una donna uccisa ogni tre giorni che non vuol dire niente si fa un paragone con altri fenomeni per capirne la gravità magari si fa una parametrazione, una normalizzazione su 100.000 abitanti allora si scopre che l'Italia è un paese dove avvengono sicuramente dei fatti assolutamente tragici esecrabili e condannabili ma grazie al cielo pochissimi pochissimi in tutta Europa però il vero capolavoro è quando lei spara la cosa della donna vittima di violenza ogni 15 minuti scusa mi scappa il sorriso perché non ne posso fare a meno lì veramente murgia cade in bassissimo perché quello è il dato relativo alle denunce segniamocelo bene le denunce di un solo mese del 2019 lo dice chiaramente la polizia di stato nel suo report presentato il 25 novembre 2019 chiamato questo non è amore lo presenta ogni anno lì in fondo a una pagina c'era una nota dove si diceva sì una donna vittima di violenza ogni 15 giorni è il dato del marzo 2019 si vede che in termini significativi la polizia ha valutato di mettere in luce quel singolo mese magari negli altri mesi ce n'era una di denuncia quindi lei sta spacciando un dato mensile medio limitato appunto al mese di un anno come un dato costante come se veramente ogni 15 minuti ci fosse una violenza su una donna di più quello di cui la polizia parlava e del dato che lei recupera sono denunce le denunce le può fare chiunque in Italia è gratuito è un diritto di ogni cittadino ed è nient'altro che una lamentela ufficiale fatta di fronte alle autorità non ci sono particolari divieti chiunque può fare una denuncia altro conto è poi che fine fa quella denuncia chiaro? quindi quelle denunce che hanno facendo il conto ne avveniva una ogni 15 minuti chissà poi quante sono finite veramente in procedimento quante sono state dimostrate fondate quante hanno portato un uomo colpevole in galera glielo posso dire io perché sono statistiche stranote il 90% delle denunce che sono all'incirca 50.000 all'anno denunce di donne contro uomini per casi di violenza il 90% finisce in nulla la metà se ne va in archiviazione il 40% se ne va in assoluzione quindi c'è un misero 10% grazie al cielo di condannati siamo a una media di meno di 5.000 uomini condannati all'anno quindi in sostanza quello che lei sta facendo sta cercando di spacciare un dato assolutamente irrilevante che è quello delle denunce limitato nel tempo per un mese come se fosse un dato normale come se fosse un dato che è un qualcosa che avviene ogni giorno questa è una cosa veramente infame che lei fa è pura propaganda è pura falsità di cui si dovrebbe assolutamente vergognare in Italia trovate anche una mappa interattiva dove purtroppo ogni circoletto rosso corrisponde a un fatto di cronaca di cui si ama conoscenza ma i pallini sulla mappa indicheranno le denunce o le condanne no perché per i numeri che ho detto prima ma se indicano le denunce la cartina non basta sono 50.000 anzi io consiglio Repubblica vicino alla cartina di mettere anche l'icona di un cestino dove mettere le denunce che vengono archiviate che finiscono in nulla quello sarebbe assolutamente molto utile molto più della cartina perché sono molte di più le denunce che finiscono in niente vi ricordo che non esiste un osservatorio statale per fare questo in Italia per il momento se per questo esiste niente meno che una commissione parlamentare di indagine proprio sul femminicidio non si capisce che cosa stia lì a fare lei questa commissione dovrebbe dare la definizione ufficiale di femminicidio dovrebbe dare i dati ufficiali quanti sono veramente invece non fa nulla ma non solo nelle statistiche che fa l'Istat sugli omicidi sulle violenze viene dedicata sempre a una parte specifica solo alle violenze subite dalle donne da parte degli uomini quindi avete già un monopolio l'Istat non misura le violenze sugli anziani sui bambini sui disabili sugli omosessuali sugli immigrati tantomeno le misura sugli uomini quelli assolutamente non esistono quindi avete già un monopolio sulle statistiche tutti gli altri tutti gli altri tipi di violenze vengono dimenticate perché è più importante la vostra non capisco dove stia il problema sinceramente non capisco di che cosa si stia lamentando dateci anche una mano segnalandoci fenomeni errori che possiamo e sicuramente faremo lei Murgia dice faremo degli errori sì assolutamente è da un po' che il suo osservatorio è attivo abbiamo osservato il suo osservatorio e abbiamo registrato già diversi errori alcuni anche abbastanza scandalosi per esempio ovviamente voi titolate i femminicidi in Italia poi si va a vedere i casi che voi elencate e si trova dentro di tutto di tutto si trovano donne uccise da uomini per qualsivoglia motivo compreso l'omicidio colposo si trova la criminalità ordinaria quella che lei all'inizio del suo video escludeva si trovano donne uccise da donne che in teoria non dovrebbe essere femminicidio quindi alla faccia dell'errore questi non sono errori Murgia questa è mistificazione calcolata è informazione deviata niente di più niente di meno dateci una mano a fare in modo che questo spazio sia un vero spazio di servizio il più possibile efficace per quello che vuole raggiungere e cioè diventare inutile nel giro di un paio d'anni arrivare al punto in cui la parola femminicidio non serva più pronunciarla perché non ci sarà più alcun fenomeno di cui parlare c'è un metodo più veloce sa Murgia dei due anni di tentato indottrinamento tramite Repubblica come lei sta prospettando ed è quello di dimostrare la falsità la strumentalità la malafede e la pericolosità del femminismo che è proprio quello che lei incarna così profondamente lasci che la gente si apra ad ascoltare un'altra versione della realtà che impari a leggere i dati per quello che sono realmente attenda che raddoppino anche solo raddoppino quelli che ci ascoltano il vostro matrix le vostre bugie spariranno in un istante e con esse sparirà anche il femminicidio non manca molto glielo assicuro perché i corpi sani di solito in un modo o nell'altro riescono a espellere i microbi dannosi e a tornare gradualmente normali e le bugie ideologiche sono come i microbi dunque lei continui pure così e noi continueremo a spingere perché idee come le sue persone come lei che li veicolano siano sempre più spinte ai margini del dibattito pubblico che è dove l'estremismo ideologico è sempre stato e deve stare per evitare che avveleni il clima il clima culturale e soprattutto la vita il futuro e le relazioni di tanti uomini e tante donne